Salve a tutti, attendiamo giusto qualche secondo affinché si possano collegare più amici, più utenti, più persone che seguono le mie dirette per avere un contatto diretto con gli uffici regionali, anche sulle attività che stiamo svolgendo in favore di tanti lavoratori, di tante persone che ci scrivono quotidianamente, abbiamo numerosi dossier su cui stiamo lavorando, abbiamo depositato una serie di interrogazioni regionali proprio in questi giorni per dare voce a tante persone che subiscono una serie di disagi e di servizi sul territorio, servizi di varia natura. In tanti, io partirei però da una premessa, in tanti mi state scrivendo, dopo le primarie che si sono concluse l'altro giorno del Partito Democratico, in tanti mi state scrivendo cosa cambierà ora nei rapporti con il Partito Democratico. È da vedere, il Movimento Cinque Sera ha una sua autonomia, una sua identità, un suo programma, le sue idee consolidate che conoscete tutti, le idee che abbiamo presentato ogni volta nelle varie tornate elettorali, abbiamo avuto modo di far capire alle persone in che modo siamo stati efficaci quando siamo arrivati al governo nel trasformare quei punti programmatici in leggi che poi hanno soddisfatto le esigenze di tante fasce di per su. Penso al reddito di cittadinanza, penso ad opportunità importanti che abbiamo creato come il super bonus, penso a una serie di norme che hanno guardato sempre e prima di tutto il benessere collettivo, le necessità dei cittadini, specie di chi sta peggio, di chi vive delle difficoltà, dei lavoratori che stanno in lotta per il riposto di lavoro, dei precari, dei disoccupati, insomma di tutti coloro che vivono un momento di difficoltà e quindi fanno i conti anche con un caro vita che purtroppo oggi, come oggi, sta mettendo a dura prova tantissime famiglie, aumenti sconsiderati sui carburanti, aumenti di beni di prima necessità, il costo ovviamente della vita è schizzato veramente alle stelle, con cause tantissime, ne sono state tante, tra cui le dinamiche legate alla guerra, poi ci sono quelle speculative. Insomma, la domanda, dopo il risultato di ieri, di un altro partito, le primarie che hanno decretato la vittoria di Elislein, cosa cambia per il Movimento 5 Stelle? Cambia ben poco, bisognerà vedere cosa cambierà nel PD in termini di proposta politica, perché il PD è un partito che negli ultimi anni abbiamo visto che si è allontanato vertiginosamente da quelli che sono i bisogni delle persone, da quelli che sono i punti programmatici e politici portati avanti dal Movimento 5 Stelle, portati avanti dal Conte 2, quindi dal Presidente Conte quando avevamo creato il governo insieme al PD, abbracciando quella che poi è stata l'agenda Draghi, agenda che a quanto pare sembra essere nelle mani dell'attuale governo, il quale quando c'era Draghi, ha fatto l'opposizione, si fingeva essere opposizione e oggi diciamo sembrano essere più draghiani di Draghi, perché smantellare il super bonus, cercare di smantellare il reddito di cittadinanza e tutte quelle leggi che hanno garantito opportunità, sostegno alle fasce più deboli, alle piccole e medie imprese, è un qualcosa veramente di allucinante che non trova alcun tipo di giustificazione, noi ci stiamo facendo sentire a qualsiasi livello per arginare quella che può rappresentare una vera deriva per il Paese, un Paese che non se lo può permettere a maggior ragione che oggi dopo una pandemia abbiamo quanto meno strumenti validi che grazie al Presidente Conte possono giovare all'Italia, penso al PNRR, penso a tanti strumenti su cui bisognerebbe lavorare per migliorare le leggi che hanno fatto del bene al Paese e non certamente smantellare. Cosa cambia? Bisognerà vedere su tante tematiche, per esempio sull'autonomia differenziata, bisognerà a capire il nuovo segretario del Partito Democratico che cosa ne pensa, su altri tasselli come per esempio il salario minimo, sul reito di cittadinanza, sul terzo mandato per esempio a De Luca, cosa cambia in Regione Campania? De Luca esce da questa tornata primaria nel PD molto ridimensionata, aveva sostenuto a Spatatata Bonaccini il quale ha perso. Quindi sarà interessante capire ora anche a livello regionale quanto Elis Lane potrà fare un vero cambiamento. O cambiamento che naturalmente noi ci auguriamo non perché siamo affascinati da ciò che può fare un altro partito perché noi nel Movimento 5 Stelle abbiamo le idee chiare, abbiamo il nostro programma, la nostra identità come dicevo prima, ma ovviamente siamo molto attenti a ciò che accade nel perimetro che dovrebbe essere quello del centro-sinistra. Quindi se un rinnovamento può abbracciare altri interlocutori ne può giovare soltanto il Paese perché possiamo mettere finalmente al centro di un'agenda politica più allargata temi che ci stanno più a cuore. Penso alla transizione ecologica, penso al rispetto per l'ambiente, penso al lavoro, al salario minimo, a tutto quello che è nel nostro DNA e che molte di queste norme, molte di questi diciamo pilastri che noi perseguiamo sono prettamente di centro-sinistra ma sono idee buone che sono vicine alla gente. Quindi vedremo se questa figura nuova che il PD ha messo come segretario sarà veramente poi nei fatti di rottura rispetto a una serie di temi. Terzo mandato per De Luca, vediamo in che modo si schiererà il PD rispetto a questa situazione. L'augurio è che non sia l'ennesimo totem messo a capo di un partito che poi nei fatti cambia poco o niente rispetto a quello che è stato ciò a cui abbiamo assistito e abbiamo visto in questi mesi. Questo è un augurio per intavolare un dialogo allargato anche con altre forze politiche. La Campania vive un momento di difficoltà globale, basta farsi un giro in quello che è per esempio il trasporto pubblico, di quelli che sono gli ospedali, di quelli che sono anche le strutture sanitarie, di quello che sta accadendo sul settore sanitario, i settori trainanti di competenza diretta della regione campana, di gestione diretta della regione campana, sanità e trasporto pubblico. Basta fare un'analisi su ciò che accade in questi settori per capire che non siamo messi bene, al di là delle chiacchiere e degli annunci che vengono fatti reiteratamente da De Luca sulle televisioni, ciò che accade è ciò che i cittadini poi possono toccare con mano quando poi si rapportano a questi settori, sia quello sanitario che riguarda la salute, il diritto alla salute, l'accesso agli ospedali, l'accesso alle cure. E ciò che noi stiamo facendo in Campania proprio su questo aspetto è qualcosa di veramente grosso, un lavoro grandissimo fatto di denuncia, fatto di sollecitazioni al governatore a sbrigarsi su una serie di situazioni che riguardano il settore sanitario. Penso per esempio ai tanti che attendono una stabilizzazione e sono bloccati nelle gradatorie attive in tanti mansioni, penso agli operatori sociosanitari, penso agli infermieri, penso ai medici, a Campania è in sottorganico per quanto riguarda queste figure, negli ospedali abbiamo bisogno di più medici, di più infermieri e di più operatori sociosanitari, abbiamo delle gradatorie attive di persone che hanno superato già un concorso pubblico risultando idonei e non si mette mano per scorrere quelle gradatorie. Avevamo presentato una serie di proposte per cercare di creare una piattaforma centralizzata, regionale, sulla sanità campana che partendo dalle carenze e dai farbisogni di ogni presidio ospedaliero mettesse in collegamento la domanda e l'offerta di disponibilità di personale attualmente presente in quelle gradatorie. C'è lo strumento delle convenzioni che potrebbe essere utilizzato, cioè ospedali che non hanno gradatorie attive potrebbero tranquillamente stipulare convenzioni con ospedali che invece hanno espletato in questi anni dei concorsi e possono disporre di gradatorie attive. Molte convenzioni sono state fatte in passato ma sono ferme e vanno a rilento. Queste persone attendono da mesi con la preoccupazione che la validità di quelle gradatorie poi possa esaurirsi perché come sapete hanno una validità che è di un biennio. Quindi perderebbero anche il diritto di poter essere chiamati ed è un qualcosa che non può accadere anche perché c'è un bisogno veramente immediato di medici, ripeto, infermieri e operatori sociosanitari. Ciò che sta accadendo sul settore sanitario è qualcosa di allucinante. Io sto portando avanti una battaglia enorme per tantissime persone che mi stanno scrivendo e che non riescono a rinnovare l'esenzione sanitaria del ticket sanitario. Sapete quella collegata, legata al reddito. Tutte le persone che hanno un reddito basso, un'isee, come prevede comunque la norma, al di sotto di una certa soglia, possono avanzare la richiesta di accedere alle cure sanitarie gratuite. Lo prevede la Costituzione all'articolo 32. Cosa sta accadendo in Campania? Per migliaia e migliaia di famiglie e di persone le ASL non stanno dando la possibilità a questi signori, pur avendo i requisiti, di poter accedere all'esenzione sanitaria del ticket perché gli viene contestata a queste persone il pagamento, il recupero di cifre, di sanzioni, di recupero ticket che risalgono anche a dieci anni prima, assurdo, fino a dieci anni prima. La cosa che ci stanno però scrivendo è che in questo lungo lasso di tempo non hanno mai ricevuto dalle ASL, dagli organi competenti, né avvisi, né notifiche, né termini di legge che avrebbero consentito quantomeno a queste famiglie di provvedere e risolvere e pagare magari, se devono pagare, quelle somme. Ma questa situazione tecnicamente non può impedire una famiglia di poter accedere all'esenzione, quindi all'accesso gratuito delle cure. Intanto tu rinnovi quella che è la necessità, il diritto di poter accedere alle cure e poi si va a vedere se ti devono pagare il pregresso risalente, ripeto, a otto, dieci anni prima. Questo poi si sarà una valutazione da fare ogni singolo caso. Ma abbiamo depositato un'interrogazione per chiedere cosa sta succedendo nelle ASL rispetto a questa situazione. Non abbiamo ancora ricevuto risposta e porteremo questo quesito prossimamente in aula al question time, vi annuncio anche questo. Sempre per stare dalla parte di migliaia di famiglie, ripeto, mi stanno arrivando mail da tantissimi nuclei familiari disperati perché non possono pagare le cure, sanità, non possono pagarsi anche delle analisi perché non c'hanno la disponibilità economica. Mentre prima avevano l'esenzione del ticket, oggi devono pagare tutto ed è gente che non lavora, è gente che ha anche in alcuni casi delle disabilità, dei problemi anche fisici. Insomma è una situazione veramente delicata perché qui si sta giocando, purtroppo uso questo termine brutto, però su quella che è poi la salute delle persone, la costituzione che il nostro faro parla chiaro al riguardo. Ma vi garantisco che porteremo avanti la voce di queste persone in aula a stretto giro. I temi sono tantissimi, i problemi veramente sono innumerevoli. Pensate alla situazione delle innumerevoli vertenze di lavoro che sussistono in campagna, ai tanti bacini di disoccupati esistenti in campagna, a cui personalmente cerco di dare sempre voce. Ma mi accorgo talvolta che dall'altro lato c'è un governo regionale che non ha quella sensibilità di collaborare per cercare di risolvere una serie di situazioni. È stato pianificato il piano Gol, l'ho ripetuto diverse volte anche in tante dirette, in atti che ho depositato. Il piano Gol è un piano che deriva da risorse economiche europee che le regioni avevano per poter intercettare, dare ai disoccupati che avessero determinati requisiti, opportunità di frequentare dei corsi che poi dovevano aprire, diciamo così come prevede anche l'Europa, delle porte di reinserimento lavorativo. Il problema è che con grande ritardo la regione ha profilato queste persone, le ha contattate, ma poi ha rimesso ai centri di formazione accreditati la possibilità di creare delle progettualità. È un concetto sbagliato e ne avevo parlato anche a suo tempo con l'assessore portando questa questione in aula. Se abbiamo 120 milioni di euro da spendere questo a fine 2022, ora ci sarà una nuova tranche. Per creare veramente opportunità di lavoro, la prima cosa da fare è studiare la platea dei disoccupati, dei potenziali destinatari che possono accedere a questa misura, capendo l'età anagrafica, l'esperienza lavorativa pregressa, lo status di ogni persona e diciamo facendo una cernita di, diciamo, accurata, un'analisi accurata di quella che poteva essere la platea. Sulla base poi di questo studio bisognava fare un avviso pubblico alle aziende, direttamente a coloro che potevano essere interessate a questo percorso formativo che poi poteva dare una speranza di poter ricollocare almeno una parte di coloro che avrebbero frequentato questi corsi. Non hanno voluto fare così. Si sono prima attardati burocraticamente, dopodiché ad un certo punto hanno dato mano libera a creare progettualità, insomma, con una certa superficialità, idee progettuali per coinvolgere queste platee. Allora il rischio qual è? Il rischio è che a fronte di risorse che la Regione poteva utilizzare per i disoccupati si arrivi a quel modus operandi di politiche attive del lavoro, di progetti formativi che non rispondono poi ai bisogni, alle esigenze del territorio e soprattutto che non rispondono alle figure che le aziende sul mercato ricercano. Oggi già è difficile creare lavoro e dare possibilità di lavoro a queste persone, ma vi assicuro che tante realtà aziendali esistenti in Campania hanno necessità di assumere, ma di assumere persone con delle qualifiche specifiche. Bisognava semplicemente studiare prima il territorio, studiare l'attinenza, le prerogative e la storia dei disoccupati, fare un avviso pubblico rivolto alle aziende interessate e partire. Non è stato fatto così e quindi si rischia veramente l'ennesimo fallimento delle politiche attive del lavoro. E questo, diciamo, l'avevamo detto prima di far partire questo percorso. Come vedete, i temi principali su cui poter ragionare e su cui noi ci battiamo sono sempre gli stessi, il diritto al lavoro, l'occupazione, il creare presupposti per dare alle persone che stanno peggio delle opportunità, per evitare che i tanti giovani, questa non è retorica, che studiano quelle che in un tempo erano considerate le migliori università d'Italia, qui in Campania, a Napoli. Questi studenti, questi giovani, dopo aver conseguito magari un titolo di studio, sono costretti ad emigrare. Non più neanche più al nord, ma all'estero. Questa è una sconfitta della politica, una sconfitta del territorio e per questa ragione ne abbiamo una responsabilità. Noi come opposizione su questi temi ci siamo e abbiamo sempre incalzato De Luca, Marchiello, che è l'assessore alle attività produttive e al lavoro, ma su questi temi vediamo veramente una stasi, un immobilismo che ci spaventa. Noi portiamo proposte, portiamo interrogazioni, cerchiamo di pungolare l'amministrazione anche mettendoci in una posizione collaborativa, ma spesse volte dall'altro lato ci accorgiamo che spesse volte c'è poca attinente, sensibilità e volontà a voler risolvere le cose. L'ultima platea a cui abbiamo dato voce, lo avrete visto in questi giorni, vi invito comunque a seguire sempre la mia pagina, i miei canali YouTube, Instagram, dove ho un contatto diretto con voi, con tutte le persone che mi seguono. Ultimamente, ma giusto per darvi l'idea di quanto vi sia una assofazione da parte di questa giunta regionale a quelli che sono i temi del lavoro, noi abbiamo 147 lavoratori contrattualizzati in regione campana che erano ex lavoratori socialmente utili, che grazie al Movimento 5 Stelle hanno avuto la possibilità di essere stabilizzati negli enti pubblici dove già erano in dotazione, ebbene la regione campana a questi signori gli ha stipulato un contratto a 10 ore a settimana, cioè percepiscono 380 euro al mese, parliamo di dipendenti pubblici della regione campana. Questa è una cosa vergognosa, abbiamo dato voce anche a queste persone, facendo una serie di atti dal scorso dicembre quando portai in aula un impegno rivolto alla giunta, a voce, a chiacchiere, tutti erano disponibili, mi votarono quell'atto, a distanza di due mesi, quando ho riportato la questione in aula all'assessore Marchiello al question time scorso di una settimana fa, la risposta è stata che in due mesi non hanno fatto niente, zero, e questo è vergognoso, questo è vergognoso perché il nostro atteggiamento è sempre costruttivo e collaborativo e propositivo, ma dall'altro lato vediamo veramente una lentezza nel fare, una lentezza nel mettere al centro il lavoro, il tema della sanità, il tema dell'ambiente, il tema del trasporto pubblico per migliorare quella che è la qualità dei servizi erogata praticamente ai cittadini e questo è un qualcosa che noi abbiamo sempre sollecitato e portato all'attenzione, quindi a chi mi chiede cambierà qualcosa con il nuovo segretario PD? Vedremo nei prossimi giorni se è l'ennesimo blef di un partito che ormai si è allontanato da quelle che erano le esigenze dei cittadini e dei lavoratori e dai temi che noi portiamo avanti oppure se c'è un rinnovamento della classe dirigente, ma lo scopriremo soltanto vivendo, quindi i dubbi ci sono, non vi nascondo che sono forti, però noi andiamo per la nostra strada, abbiamo la nostra azione politica, siamo tutti i giorni con le persone, con i lavoratori, io dicevo decine di persone al giorno e mi portano tantissimi problemi, tantissime cose su cui lavorare, spesse volte ci ingolfiamo di situazioni perché ovviamente non è facile poi, ogni atto che andiamo a fare è per frutto di uno studio, di un'analisi, nel contempo sto girando tantissimo come Presidente della Commissione Quarta Speciale di Innovazione e Sostenibilità per la competitività delle imprese, per le attività produttive del territorio, per cercare di capire quali sono i problemi che loro stanno affrontando, anche alla luce del brutto periodo che abbiamo vissuto con la pandemia e per cercare di sviluppare altre proposte anche per dare una mano a chi con tanto sacrificio e difficoltà prova ad investire sul nostro territorio e a fare, diciamo, a creare ricchezza e lavoro. Se le imprese funzionano c'è lavoro e c'è benessere, se le imprese praticamente chiudono o delocalizzano allora ovviamente è la desertificazione, siamo davanti praticamente alla fine, diciamo, anche economica e di sviluppo del nostro territorio e non ce lo possiamo permettere perché il nostro è un territorio bellissimo, che ha un potenziale enorme, ma ripeto, sono parole che avrete sentito ogni volta, però operativamente noi su questi temi ci siamo e ci auguriamo che pure gli atti si sveglino un attimino dal sonno. Io come sempre vi saluto, sono stato abbastanza prolisso, ci tenevo a fare questo chiarimento perché mi avete scritto in tanti per sapere, diciamo, qual è la posizione del movimento rispetto al PD. Siamo opposizione in Regione Campania e resteremo opposizione. Capiamo se questo è un partito che si rigenera o è un partito sempre ancorato ai soliti centri anche di potere politico oppure no. Sui temi ci siamo, se si aprono spiragli per parlare di lavoro, di ambiente, di trasporto e di sanità. Noi ci siamo, abbiamo le proposte, però vogliamo anche poi arrivare a dei risultati altrimenti non cambierà mai niente per i nostri concittadini. Vi saluto e vi invito a condividere questa diretta, siete sempre in tante a seguire le mie dirette. Questo è un canale per me fondamentale per arrivare a un numero maggiore di persone e quindi l'informazione rende il cittadino libero. Noi facciamo prima di tutto informazione delle cose che facciamo e delle cose che accadono. Vi invito quindi a condividere questa diretta, a seguire la pagina e anche il mio canale YouTube e Instagram. Vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio.